Gremi Clinic opera nel campo del turismo dentale dal 2009. Riceviamo ogni giorno pazienti da ogni angolo dell'Europa cominciando dall'Italia, Svizzera, Spagna, Francia, Belgio e ormai anche dalla Svezia, Danimarca e il Regno Unito. Questa è la sala numero uno, diciamo è la sala dove comincia tutto il percorso delle cure dentali di un paziente. Qua si fanno le visite di controllo, i vari consulti con i dottori, si preparano i piani di trattamenti personalizzati per ogni paziente. Ci troviamo nella sala numero due, che è una sala dedicata ai controlli postprotesici. Nel momento che il paziente inserisce le corone definitive, in questa sala fa tutti i controlli postprotesici per rassicurarci che tutto è stato fatto nel miglior modo possibile. Poi ci troviamo nella sala numero tre, una sala dedicata alla terapia conservativa, che vuol dire devitalizzazioni, otturazioni, pulizia postizionale del tartaro, ricostruzione con perno moncone, invita di vetro e così via. Sembrano interventi facili, però sono molto importanti e molto delicati. Qua ci troviamo nella sala numero quattro, è una sala dedicata alla chirurgia orale. Un'altra sala chirurgica. Attualmente si sta svolgendo un intervento di implantologia totale, ricostruzione dell'osso, attrazioni multiple, eccetera. Questo intervento chirurgico si sta svolgendo con la sedazione cosciente, il tipo di anestesia che la nostra clinica offre. Gremi Clinica è un medico anestesista dedicato, che segue man mano per tutto il tempo dell'intervento il paziente per controllare tutti i parametri vitali del paziente. La sedazione cosciente è un tipo di anestesia che viene usato per tutte le persone che hanno paura e fobia dal dentista. E qua ci troviamo nel nostro reparto radiologico. Si tratta di una tracciatura all'avanguardia, l'ultimo modello creato, molto sicuro sia per il paziente sia per il nostro staff medico. Qua vengono eseguiti tutte le otto panoramiche in 2D e lo scanner tridimensionale con eBIM. Qua ci troviamo nella sala numero 6. Attualmente alle mie spalle si sta svolgendo un intervento chirurgico. Eccoci qua presso il laboratorio odontotecnico di Gremi Clinica, una delle parti più importanti di questa struttura. Vi faccio vedere il motivo. Questo dipartamento è dedicato 100% ai denti definitivi, lavori protesici, tissi su impianti o su denti naturali. Tutte e tre le poltrone dentali attualmente sono in pieno lavoro, ci sono diversi pazienti seduti che sono in diverse fasi dei lavori definitivi protesici. Prove, alcuni stanno prendendo le prime impronte, alcuni stanno cementando e abitando. Nel nostro laboratorio comincia il lavoro dal momento che si prende la prima impronta nella bocca del paziente. Viene fatto il digital design e il paziente vedrà in anticipo come verrà il suo sorriso. Qua ci troviamo nel departamento del digital design, dove vengono scanalizzate tutte le impronte presa dalla bocca del paziente, per poi continuare con il digital design. È un processo fondamentale che deve essere fatto con la massima cautela e precisione. Tutti i macchinari che noi abbiamo sono tutti all'avanguardia, provenienti dalla Germania, Italia, Austria e così via. Anche i materiali che noi usiamo sono provenienti dagli stessi paesi. E sono tutti certificati CE. Lo zirconio multilayer, che è attualmente il materiale migliore nel campo della odontoiatria, tutto certificato CE. Vi faccio vedere altri materiali, la stessa cosa. Tutti i materiali che vi sto facendo vedere sono visibili per tutti i nostri pazienti. Questo è un disco di zirconio già elaborato, già finito. Questi denti che sono stati disegnati e prodotti nel nostro laboratorio ormai sono nella bocca di un paziente e vi abbiamo regalato un nuovo sorriso.